Questo è il nuovo Cameback Apex Pro da 12 litri, uno zainetto da trail running pensato per chi fa ultra distanza e ha bisogno di portare tantissimi oggetti durante le sue gare. Adesso insieme vediamo pregi di fette all'interno dell'accensione completa. Inizio subito a parlarvi della traspirabilità di questo Apex Pro, perché lo schienale di questo zainetto è fatto con una trama molto larga che gli permette di essere veramente molto molto traspirante. Io l'ho utilizzato in queste giornate di luglio dove la temperatura era veramente alta, parliamo di momenti in cui superavano anche i 30 gradi e devo dire che il sudore evacua veramente molto bene. Non si fa mai la sauna, è davvero molto traspirante. Molto traspirante poi sono anche gli spallacci perché sono fatti con un materiale un pochino più stretto a livello di grandezza in sé del tessuto, però anche loro non sono male. Dal punto di vista poi dello schienale e di tutti gli spallacci devo dire che ha un'ottima stabilità. Anche correndo sui terreni più tecnici, correndo sui terreni più accidentati, anche a zaino completamente pieno, questo non balla e come caratteristica mi è piaciuta molto. Lo zaino non balla perché troviamo un sacco di regolazioni. Abbiamo innanzitutto quella pettorale classica, composta da due fettucce con la clip da poter stringere e poi troviamo altre due regolazioni sui fianchi in modo tale da poterlo stringere attorno al nostro corpo. Passando invece a parlare della parte di stivaggio, qui abbiamo un sacco di tasche. I due spallacci nella parte anteriore sono speculari, quindi ne vediamo solamente uno. Nella parte bassa troviamo una prima tasca enorme, davvero grandissima, chiusa da zip. Ci sta dentro benissimo un telefono, le chiavi della macchina, comunque qualsiasi oggetto vi assicuro è davvero grande ed è abbastanza elastica. Appena sopra questa tasca ne troviamo altre due. Una che è il retro di questa tasca che abbiamo appena visto chiusa a zip e poi una superiore fatta da una retina. Anche qua di oggetti ce ne stanno tantissimi. Cioè praticamente volendo si possono portare sei o sette barrette su un singolo spallaccio. Quindi veramente gli oggetti ce ne stanno senza nessun problema. Poi nella parte superiore troviamo la classica tasca dove riporre la soft flask. Soft flask che vengono date in dotazione con questo camelback e le classiche soft flask di camelback che hanno anche il beccuccio apribile e richiudibile. Quindi ottimo per evitare che si perda acqua mentre corriamo. Da questo punto di vista devo dire veramente tantissimi oggetti e poi essendo speculari gli spallacci si può portare davvero l'acqua lunghe. Questo zaino ma poi lo vediamo è pensato veramente per far delle gare estremamente lunghe. Ma non finiscono qua le tasche perché troviamo anche due taschine poste sul fianco, una destra e una sinistra. Sono aperte quindi magari io ci andrei a mettere un pacchetto di fazzoletti o comunque qualcosa che se proprio lo dovessimo perdere non sarà un grosso problema. Però abbiamo due ulteriore taschine. Continuando sulla parte posteriore salta subito all'occhio la faretra. Faretra data in dotazione con lo zaino quindi non dobbiamo comprare la parte. I bastoncini all'interno ci stanno veramente bene. Ci stanno anche i bastoncini di una sezione particolarmente grossa ed è semplicissimo prenderli o andare a riporli. Volendo poi la faretra si può staccare perché è utenuta unita con lo zaino da dei semplici bottoni. Possiamo benissimo staccarla e utilizzare lo zaino anche senza. Nella parte posteriore poi abbiamo due tasche. Una superiore piccolina che ricorda tanto la tasca di uno zaino da trekking che è anche impermeabile. Quindi qua volendo, consiglio mio, magari le chiavi della macchina o qualcosa che non vogliamo che si bagni. E poi abbiamo la tasca principale dove riporre la maggior parte degli oggetti più grossi. Una tasca che ha un'apertura a zip che corre a tutta lunghezza e che è diagonale. Quindi in questo modo riusciremo a prendere facilmente gli oggetti quando dobbiamo magari toglierci lo zaino. E da questo punto di vista l'interno è anche separata da una retina. Quindi possiamo anche andare a separare gli oggetti. Una svalca idrica ci sta naturalmente senza nessun problema fino a un litro e mezzo con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore. E nella parte posteriore è tanto classico quanto comunque molto funzionale perché è davvero di tasca e ne troviamo veramente tante. Ma dunque a chi consiglia di comprare questo Camelback Apex Pro? Secondo me questo è uno zaino pensato per chi fa le ultradistanze. Cioè per chi fa davvero delle gare molto lunghe, anche 300 e passa chilometri. È uno zaino come vi dicevo che ha un'ottima traspirabilità, un'ottima stabilità, ma che fa della sua parte di stivaggio sicuramente la caratteristica principale. Uno zaino che poi ha anche una caratteristica che è unica nel suo genere perché nella parte superiore troviamo un riflettore recco. È l'unico zaino che presenta un riflettore recco per farsi trovare in caso di necessità. Se non sapete poi cos'è il recco ci ho fatto un video a riguardo che ve lo lascio qua sotto in descrizione. Ed è l'unico zaino da trail che lo presenta, nessun altro zaino sul mercato ce l'ha. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Camelback Apex Pro. Iniziamo dal prezzo perché lo si trova online sui 140-150€. È appena uscito quindi probabilmente il prezzo dovrà ancora avere la sua naturale discesa di mercato. Però è uno zaino che vi consiglio perché mi ci sono trovato veramente bene. Sono anni che utilizzo gli zaini di Camelback e mi piacciono sempre tanto. Questo qua con recco è veramente un valore aggiunto. L'unica nota negativa che però è molto personale è il colore. Personalmente avrei preferito un colore più chiaro perché se dobbiamo correre d'estate sicuramente il nero non è al massimo. E poi devo dire che quando si suda il sudore si vede particolarmente. Però il colore come sempre rimane un fattore molto soggettivo. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stata esauramente la sostituzione anche per questo video. Vi ringrazio di aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!